Le parole derivate. Altre parole primitive, che possono essere nomi, verbi, aggettivi, avverbi, è possibile aggiungere prefissi e suffissi e ottenere così le parole derivate. I prefissi sono le particelle che si mettono prima della radice di una parola e consentono di formare altre parole di significato diverso. I suffissi sono le particelle che si mettono dopo le radice di una parola e le danno un significato diverso da quello della parola di base, anche se appartiene allo stesso ambito di significato. In cartare, in refisso, cart, radice, are, desinenza. Cartolaio, cart, radice, olai, suffisso, o, desinenza.